Nutrita e agguerrita nazionale italiana, diversi atleti del nostro territorio e in particolare c'è un cognome che dovrebbe essere familiare perché un ciclista si chiama Podestà e viene da Genova. Il cognome l'ho già sentito, in effetti la mia famiglia è originaria della Liguria di Genova, mio padre era nato alla Spezia ma la famiglia è originaria di Genova. Quindi auguri, forza all'amico Podestà che compete, è un ragazzo giovane ciclista che ha avuto purtroppo un grave incidente automobilistico e oggi si trova a correre le Pari Olimpiadi. La nostra squadra è la più numerosa che mai abbia partecipato per l'Italia alle Pari Olimpiadi. Le attese sono importanti, sono grandi, sono sicure che avremo soddisfazione ma soprattutto dobbiamo rispetto a quelle donne, a quegli uomini che pur avendo per ragioni diverse o perché, per ragioni di nascita o per incidenti, delle limitate capacità di alcune funzioni si impegnano, si superano nei propri limiti e hanno la capacità di far vivere questa straordinaria realtà dello sport parolimpico. Il nostro idoscalo, tra l'altro, dal punto di vista delle attrezzature, soprattutto per il Remo, per atleti parolimpici, è assolutamente a livello mondiale, la prima struttura. E credo che questo sia importante perché tutti i cittadini devono avere cittadinanza piena al di là di quelli che possono essere i limiti che ognuno di noi può avere, chi in un campo, chi in un altro.